Si chiama Max Tom Pitcher, ha 56 anni di età, è un gastroenterologo, lavora da molti anni al St. Markers Hospital di Londra, ha un'esperienza piuttosto importante nell'ambito professionale, ma è esperto nel cambio musicale. Essendo da sempre un appassionato di violino, un amore coltivato fin dai primi anni di vita, come lui stesso ha di recente ricordato. Pensate che questo medico violinista va a suonare per allegrare tutti i pazienti ricoverati in ospedale che hanno purtroppo il Covid-19, il coronavirus. E' questo quello che fa l'uomo, un medico ripeto, un medico buono, un medico probo, un medico onesto, un medico meraviglioso, un medico straordinario che, pur di far star bene i propri pazienti, gli va ad aiutare attraverso il suono del suo straordinario nonché magnifico violino. E grazie a questo violino i pazienti stanno molto molto meglio. Bene, questa è la cosiddetta terapia che fu intrapesa già da Pecciadams nella pellicola in cui recita il grande Robbie Williams. Grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Al prossimo video, Leandro Narratore Italiano.